Ancora una volta scatta una misura che coinvolge bar e ristoranti. I ristoratori si stanno attrezzando per accogliere al meglio i clienti e per far rispettare le norme. L'accoglienza è fondamentale e in questo periodo ancora caldo si riuscirà a far sentire tutti a proprio agio. Ma si attende il periodo invernale per cercare di capire come influirà sulle attività. Noi siamo quella parte di piccoli fortunati perché abbiamo gli spazi fuori, diciamo il problema non dovrei sentirlo. Sicuramente ai primi predi si creerà il problema. Quello che è certo è che non sarà bello fare un'intervista al cliente prima di entrare perché non è consono la situazione. Uno viene per mangiare, viene per un momento così. Però c'è da dire che io, personalmente io, sono a favore del vaccino, anzi supplico tutti quelli che non l'hanno fatto di vaccinarsi perché se questo può veramente eliminare il problema in maniera totale è bene che lo facciamo tutti. Il provvedimento mi sembra un po' punitivo nei confronti di questa categoria che ha già le sue regole ma è lo stesso cliente che chiede il rispetto delle regole, chiede le distanze, chiede l'igienizzazione. C'è una presa di coscienza da parte proprio del cliente. Eppure noi che abbiamo tutti questi contatti siamo particolarmente attenti a ogni situazione. Perché poi anche le situazioni paradossali, cioè chi ha i figli di 10, 11 anni, 12 anni al ristorante non ci può andare perché i ragazzi non sono vaccinati. Praticamente i ragazzi andrebbero lasciati fuori dal ristorante. Oppure sui bus non c'è bisogno là dove proprio cova il virus perché i trasporti si sanno, specie nelle grandi città, sono sempre ammassati. Per cui è lì che si sarebbe dovuto intervenire, ma non oggi, al primo momento del virus.